Yo, fratelli natalizi, questa è la presentazione ufficiale della Sissi, la Creting Crew, i due rapper del momento, Rudere e Teschio, beccateli sto rap! Sandro, Sandrino, passami lo sgabello che ti faccio sentire questo ritornello, yo, 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 hey, fratello, è quasi Natale, se non ascolti la radio, non vale, vorrei la neve sul tetto, se non viene giù, la smetto, regali cotions, va a finire che faccio la figura del cogliones, hey, diventa più buono, così mi mangio un gelato con il cono, albero, preseppe, luminaria, se non parte la festa, ti giuro, facciamo saltare tutti in aria! Io sono Teschio, correcci rieschio, le tue rime di Natale, non son poi così male, sempre meglio che andare in bicicletta, a Natale, con tanto freddo e solo felpe e maglietta, pedalo, pedalo, e mi viene la caghetta!